Io sono Helpman Ehi! Ma qui è tutto vuoto! Dove sono le palle? Già, qui non c'è niente! Non sembra molto divertente qua Eh, ma magari sono qui vicino! Proviamo ad andare a vedere! Sì, vai! Ti seguo, forza! Vengo anch'io, amici! Ehi, amici! Come vai? Ehi, sono arrivato anche io! Vogliamo entrare nella grotta per vedere se possiamo prendere le palle noi! No, non potete! Siete troppo piccoli! Ci pensiamo noi a questo tipo di lavori! Va bene, come preferite! Ehi, forza! Iniziamo a lavorare! Ci penso io! Mi pare... Mi pare che non possa entrare qui dentro! Mi sono incastrato! Oh no! Oh no! A me non mi riesco a uscire adesso! Provo a darti una mano io! Questi sì che sembrano proprio dei professionisti! No, non ci riesco! Abbiamo proprio bisogno di Helpman! Helpman! Helpman, pronto! Una nuova chiamata! Helpman in ascolto! Abbiamo bisogno di aiuto! Il mio collega qui si è bloccato in una grotta! Ci penso io! Arrivo subito! Oh oh! Mi piace sempre questa! Ma non so se questa volta ci potrà aiutare! Non credo! Oh oh! Credo che questo faccia proprio il caso nostro! Siamo pronti ad andare! Forza! Forza! Ehi amici! Eccomi arrivato! Helpman! Ecco mi è arrivato! Aiutami per favore! Ah va bene! Sì ti aiuto subito! Non ti preoccupare! Oh! Grazie mille! Helpman! Eh! Io penso che sei qui! Potreste aiutarci a tirare fuori delle palle da dentro la grotta no? Certamente! Ho tutto quello che ci serve! Eccoci qui! Perfetto! Siamo pronti a costruire i nostri aiutanti! Iniziamo subito da qui! E poi mettiamo il nostro motore! Spendiamo la cabina! E la mettiamo al suo posto! Questo è pronto il nostro coperchio! E adesso mettiamo la nostra benna! Aggiustiamo qui! E mettiamo la nostra benna di dietro! Ecco qui! E adesso procediamo con il secondo! Subito la nostra cabina davanti! Poi il nostro rimorchio! E infine il motore! Ecco qua! Adesso sì che siamo pronti! Già! Possiamo iniziare a lavorare! Forza amici! A lavoro! Non vedo l'ora di giocare con tutte quelle palle! Già! Anch'io non vedo l'ora! Però è strano! Ci stanno mettendo un po' troppo tempo! Ehi amici! Tutto bene? Ci stanno mettendo un po' troppo grande! Credo proprio che sia arrivato il momento! Eh ma quello che cos'è? Questo? Questo è il riduttore massimo! Lo zaino! Lo zaino! Andiamo! Wow! Incredibile! Ecco dove sono tutte le palle Ehi ma, ma come facciamo a portarle via da qua? Fortunatamente ho il mio zainetto Oh, grazie mille per il vostro aiuto, andiamo Oh, eccoci tornati amici Oh, oh, hai preso le palle? Già, 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 dove sono le palline? Dove sono? Ehi, 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 le palle, dove sono le palle? Non vi preoccupate, sono tutte qui le nostre palline Oh, Helpman, grazie mille per averci aiutato Già, Helpman, grazie, sei stato di grande aiuto Ah, non c'è di che amici Forza, andiamo a giocare Forza, andiamo Sì Allora amici, siamo pronti per le nostre palle Oh, e queste erano tutte Oh, grazie mille, Helpman Yeah, è fantastica, Helpman Ehi amici, aspettatevi Woohoo Woohoo E a te? È piaciuto il video di oggi? Allora ricordati di iscriverti al nostro canale Mettere mi piace E noi ci vediamo presto Ciao Ciao Woohoo Grazie Ciao Ciao